Sanità regionale. Dopo numerosi attacchi e le prese di posizione del mondo politico locale e regionale, la direzione aziendale della Asla Toscana Sud-Est prende la parola. Nelle scorse settimane, in seguito ai numerosi allontanamenti da parte di medici e professionisti della salute, ad Arezzo si è innescato un vero e proprio dibattito che ha chiamato in causa più di un soggetto. L'azienda oggi decide di replicare alle esternazioni fatte in queste ore in modo da fornire la propria versione dei fatti con tanto di dati alla mano. Arezzo non paga alcun prezzo in termini di investimenti, spiegano dalla Asla Toscana Sud-Est, così come non lo pagano Siena e Grosseto. Le nostre tre province hanno esigenze e caratteristiche diverse, quindi anche la programmazione, recita il comunicato stampa ufficiale, deve essere calibrata sulle strutture e sui servizi erogati. I numeri forniti in questi giorni dalla politica aretina non sono corretti. Ed ecco i numeri esatti degli investimenti contenuti nel piano triennale 2019-2021. Si tratta di 17 acquisti per alta tecnologia per un totale di 7 milioni e mezzo di euro, recita il comunicato ufficiale. 9 sono per Arezzo, 3 per Siena e 5 per Grosseto. A questi investimenti devono essere poi aggiunti oltre 3 milioni ogni anno per le apparecchiature di media bassa tecnologia che vengono ripartite in tutto il territorio della sud-est. Infine si devono ricordare i noleggi di service che valgono da soli svariati milioni. Sulla questione poi dei direttori mancanti al San Donato di Arezzo, la direzione aziendale sta lavorando per una accelerazione delle procedure concorsuali da parte di Estar, ma rassicura tutta la cittadinanza che i reparti stanno funzionando regolarmente e tutte le attività vengono portate avanti. Anzi, conclude il comunicato stampa, a loro va il ringraziamento per l'impegno che ogni giorno portano in corsia.